Forse è capitato anche a te come è capitato a me quando ho cominciato ad avvicinarmi a questo mondo della crescita, della formazione, di arrivare a ogni volta rendermi conto che mancava sempre qualche cosa e lo vivevo con un grande stress perché ogni volta se la scelta di andare sempre più in profondità e scoprire altre cose di te stesso come appunto ho fatto io, lavoraggine si apre sempre di più e quindi è un continuo sentire che manca qualcosa e quindi ecco questa ricerca continua, prova un metodo, prova l'altro, prova e c'è sempre questa sensazione del manca qualche cosa, c'è sempre qualcos'altro che arriva che io non ho ancora e poi a un certo punto io mi sono detta ma basta, ci saranno sempre cose che non so ancora e che scoprirò e questo è proprio la gioia della scoperta, è proprio paragonato a scoprire all'interno noi stessi, quindi riconoscere tutte le varie modifiche, cambiamenti che vanno fatti e come scoprire il mondo esterno e quindi ogni volta che visitiamo un paese per esempio c'è la gioia di aver visitato un paese nuovo, ah ho scoperto qualcosa di nuovo e dico ah bellissimo, fa parte adesso del mio bagaglio, non ho potuto gioire ma non per questo sono triste o arrabbiato perché non ho scoperto un altro paese, quindi se vado in Sudafrica gioirò del Sudafrica in quel momento ma non sono triste perché non sono andata in Thailand, in America Latina e anche nel paese giù in Sicilia che voglio visitare e quindi ci sarà, il punto è cos'è, che ci sarà probabilmente sempre qualcosa che manca da scoprire e di poter andare più in profondità ma non per questo dobbiamo viverlo come una mancanza, lo viviamo invece ogni volta che scopriamo qualcosa di nuovo è di viverlo con la gioia del bambino che scopre una cosa nuova che vede per la prima volta un albero gigante e dice ah che meraviglia, quindi in ogni momento percepire il nostro progredire, il nostro scoprire, le nostre esplorazioni come qualcosa di gioioso e anche quando scopriamo qualcosa che manca bene, si vede che è arrivato il momento di lavorare su questa cosa e non dobbiamo farlo contemporaneamente, se ne scopriamo tre tutte insieme, ne faremo probabilmente una alla volta e prenderemo la prima e cominceremo a lavorare su quella e proveremo gioia nel coltivare questa cosa, dimenticandoci delle altre, quindi se ho scelto di prendere un biglietto aero per andare in Sudafrica, mi dimentico per il momento della Thailandia, perché se no sono in Sudafrica invece di godermi le nature, le bellezze della natura, del paesaggio, ho nella mente però la Thailandia non l'ho ancora vista, non ha nessun senso, quindi approcciamo con questo nuovo modo scoprire le cose su cui vogliamo lavorare dentro di noi e questo sarà il premio per avere la voglia di continuare a lavorare su noi stessi, anche perché ricordiamoci la cosa più importante, noi siamo perfetti così come siamo in ogni momento e non è perché non abbiamo visitato la Thailandia che c'è qualcosa che non va in noi, quindi siamo perfetti e se non abbiamo scoperto solo ora qualcosa che sentiamo ci manca, va bene così, quindi abbandoniamo questa sensazione di essere inadeguati, di vedere che c'è qualcun altro che ha fatto qualcosa in più di noi, che non abbiamo ancora realizzato qualcosa, ma fa parte del nostro percorso, quindi gioire di tutto quello che è stato fatto, di quello che stiamo facendo ora e manteniamo questa gioia dello stare bene in questo momento e sapere che uno dei nostri scopi della nostra vita è proprio quello di di continuare ad esplorare e a crescere con gioia.